Giù il velo con Sandro Gozzi e Derrick Josef Intanto mi sembra evidente questa lista di scadenze elettorali e quelle che verranno che contrariamente al passato il tema dell'Europa è entrato in qualche modo di prepotenza nel dibattito elettorale. Ormai non c'è più nessun leader in Europa a livello nazionale che possa in qualche modo evitare di parlare della dimensione europea e delle conseguenze che l'Unione Europea ha nei confronti dei nostri paesi. Fino a qualche tempo fa, fino a due anni fa, non soltanto non si parlava di Europa nelle elezioni nazionali ma addirittura non si parlava di Europa nemmeno delle elezioni europee. Invece il tema dell'Europa ormai è diventato uno dei temi principali. Tu hai fatto giustamente riferimento ai governi che sono caduti, noi credo che siamo già all'ottavo governo che è caduto negli ultimi due anni e questi otto governi sono caduti sull'Europa, non su altro. Sono tutti caduti in qualche modo sulle conseguenze che ci sono state della crisi in questi paesi dal punto di vista della dimensione europea. Io ricordo, nella storia dell'Europa, ricordo poco i governi che sono caduti sull'Europa. L'unico che ricordo è il governo della signora Thatcher che ha dovuto cedere lo scetto di primo ministro a John Major e poi cadde il famoso governo di Andreotti quando i comunisti e socialisti si astennero e votarono contro il sistema monetario europeo in Italia. Ma nella storia dell'Europa non ricordo altri governi che hanno dovuto cedere il passo per ragioni europee. Questo è abbastanza significativo, il fatto che i governi siano travolti dalle vicende europee. Cadono a causa dell'Europa o forse, e magari vorrei sentire anche Ric, cadono a causa dell'assenza di Europa o delle insufficienti europee. Ric, quanto ha pesato l'assenza di Europa necessaria nel dibattito francese? Come vedi quello che diceva Virgilio dell'Europa che si è prepotentemente inserita nei dibattiti nazionali? Io condivido pienamente l'idea che l'Europa è al centro di questa elezione e anche dell'elezione francese. È proprio l'elemento di fondo. Però è presente ma non se ne parla. Oppure se ne parla in effetti, quelli che ne parlano sono quelli che la rigettano. Cioè sia Jean-Luc Mélenchon all'estrema sinistra, la sinistra radicale, il fronte di sinistra in Francia, oppure Marine Le Pen è la candidata dell'effetto nazionale. Quindi Europa o convitato di pietra o capo espiatorio per i populisti di estrema destra e di sistema sinistra. Sapendo che i partiti di governo, diciamo per fare breve, cioè in particolar modo in Francia, l'UMP di Sarkozy e il Partito Socialista di François Hollande, sanno benissimo l'importanza dell'Europa che è l'unica condizione per poter rispondere alla crisi, il livello europeo. Però non ne parlano oppure anche loro, per il caso di Nicolas Sarkozy, fanno demagogia dicendo che tra i due turni vediamo che Sarkozy è quasi sulle posizioni di Le Pen dicendo che bisogna chiudere le frontiere, rivedere Schengen, attaccare anche il budget comitario. Per quanto riguarda Hollande, Hollande dice che bisogna rinegoziare il trattato fiscale, però non ha veramente i mezzi per farlo anche se dovesse essere eletto presidente. Dunque il problema di fondo è che l'Europa è molto presente, però quelli che dovrebbero proprio avanzare un progetto, un'alternativa, una proposta di costruzione, e questa costruzione deve essere veloce, non appare.